Salve a tutti ragazzi, qui Antonio Cianci di Raccatta Film per voi con un'altra video recensione. Un altro film di Hitchcock, la vota ha lasciata questa sezione e non voglio abbandonarla. Sigla! La donna che visse due volte. Ma per molti appassionati è stato sempre meglio chiamarlo con il titolo originale, Vertigo, più riuscito e pregno di significato, realizzato nel 1958. Jimmy Stewart, di nuovo fra noi come interprete principale, John Ferguson, un detective che ha voluto appendere il distintivo al chiodo, ma inaspettatamente avrà a che fare con un caso intrigante. Un carissimo amico gli ha commissionato un lavoro, pedinare la moglie di quest'ultimo affinché non si suicidi. L'Incipit non è fra i più incisivi fra le opere di Hitchcock. La scena iniziale invece è rivoluzionaria e fa capire quanto il regista ha bisogno di rendere dettagliata ogni inquadratura per stare al passo con la psicologia dei personaggi. Per non farsi mancare nulla ha inventato una ripresa ben precisa per simulare la fobia delle altezze del nostro protagonista. Importantissimo elemento, ricordiamo. E da qui appunto il titolo, Vertigo. Zoomata veloce e carrellata all'indietro. A questo punto il set si allunga e rende molto bene su schermo l'idea di vertigini che ossessiona il detective privato che andremo a seguire. Una donna misteriosa da rintracciare e pedinare, stavo dicendo, che nasconde molti segreti. Alcuni interessanti, altri non tanto convincenti. La storia si dipana in mille direzioni, il progredire dalla narrazione ci attanaia, ci confonde. Non sappiamo se i personaggi sono quello che dicono di essere oppure se è frutto della loro immaginazione o se bolle ben altro in pentola. È il progetto più personale di Hitchcock, il più poetico oserei dire, perché questa volta ha in mente un percorso a spirale, pieno di colpi di scena, scalinate, che scricchiolano così come i caratteri messi in gioco. Dettagli di trama che lasciano interdetti, ma subito dopo ci sorprendono. In più inserisce oggetti di scena da ricordare, da porre nelle sequenze giuste e suggerirci quindi qual è l'elemento da utilizzare per scovare la verità dietro a un racconto che sembra un eterno sogno. Ecco, ecco, un sogno, un mondo onirico dentro la quale John viene risucchiato, ecco il detective, e non ha soluzioni alcune se non rischiare il tutto e per tutto e innamorarsi di una donna ambigua, sinistra, che si dice abbia due vite in un corpo solo. Conquistarla sarà così facile? Hitchcock non ha voluto essere ordinario, con una realizzazione ordinaria, una caratterizzazione dei personaggi di facile presa sul pubblico, con una storia accattivante, ecco. Più di 50 set in studio, per sistemare le luci e le ombre di un film romantico, ma ammantato da un alone di mistero che segna una marcata componente thriller. La collaborazione di Robert Burks, una fotografia magica che sente la necessità di stravolgere le carte in tavola per consegnarci un'ambientazione mai così incomprensibile. La nebbia quasi perenne, la foschia che si impone e non vuole rendere esattamente chiara la scenografia che vorremmo esaminare. E regna il rosso, il verde, il viola, a volte impercettibile alla vista, altre volte ben visibile per sottolineare la presenza di una Kim Novak, la coprotagonista femminile, magnetica. Una donna, la bionda Hitchcockiana che questa volta non delimita gli spazi in cui ci ritroviamo, ma li amplia eccezionalmente. Una sagoma? Un fantasma? Chi è questa giovane donna? Ma chi è? Come mai ogni volta che appare in primo piano ci sentiamo imponenti e spaesati? Tutta sua la scena quando ci viene presentata e diventa poi di seguito padrona del film. Ogni cosa ruota intorno a lei e avremo sempre a che fare con elementi da associare ad un vortice che ci risucchia e ci stravolge. A partire dai titoli di testa di Soul Bass, ma è così in linea con il tono adattato in questo racconto, sino ad arrivare alle musiche di Bernard Herrmann, che intensifica ulteriormente lo stato di continuo disordine che aleggia fotogramma dopo fotogramma. Poche volte mi è capitato di non riuscire a comprendere appieno lo svolgimento di un thriller, di non prevedere le mosse degli attori e restare a bocca aperta nelle scene finali. Hitchcock appaga di nuovo la nostra voglia di ricercare opere elaborate che ti prendono in giro, ti sbattono in faccia il bandolo della matassa, per poi non sapere come procedere con la soluzione del problema. Hitchcock ti invita a giocare con lui per risolvere tu stesso una storia irragionevole perché è troppo al di fuori della nostra realtà. Ma come fa ad essere un thriller realizzato da lui? Non ce la si fa, quindi a proseguire. Per fortuna rimane James Stewart, rimane lui come ultimo appiglio per riuscire ad entrare nell'anima di un film dalla corazza molto dura da scalfire. Noi solo dopo la metà di film riusciamo finalmente ad entrare nel cuore del vortice di vertigo, ma abbiamo lasciato indietro qualcuno. Il nostro protagonista che ancora non sa nulla di quanto è accaduto. Ed ecco qui, da spettatore attivo, tutto a un tratto diventiamo bambini sotto le coperte, che non devono più impegnare il cervello ma continuano a domandarsi. E ora cosa succede? Anche se abbiamo tutto sotto controllo, il bello di vertigo è che vuoi sapere poi come il nostro sventurato protagonista possa arrivare alla risoluzione dei conti. Qualcosa di geniale. Non si può fare altro che elevarlo a capolavoro. Uno dei suoi film più noti, studiati e contemplati. Il voto quindi lo si può ben capire. Il mio film preferito della sua filmografia è un 10. Senza riserve e ripensamenti. Qui Antonio Cianci il raccata film ha finito. Se questi film non li avete ancora visti, mannaggia a voi. No, scherzo. Vi invito caldamente a recuperarli perché è storia del cinema, anche questa, e non possono passare inosservati. Fatemi sapere invece se Vertigo lo avete visionato e adorato come me, vi aspetto nei commenti. Ringrazio di cuore chi mi segue, chi si è iscritto al canale e chi mi iscrive in privato o sotto i miei video. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo film di Hitchcock. Ciao ragazzi!